Negli ultimi giorni si stanno diffondendo sui vari forum o canali dedicati alla telefonia notizie sulla presunta attivazione della rete Iliad. Le segnalazioni arrivano in particolare da Roma, dove sarebbe stata avvistata la rete dell'operatore francese. Ma è davvero così? Ma prima di entrare nel merito dell'argomento vi parlo di due interessanti promozioni. La prima riguarda Amazon Music che potrete avere per tre mesi a sui 99 centesimi, ovviamente al termine della promozione potete decidere se mantenere o distire l'abbonamento. Il link in descrizione per attivare Amazon Music è qui sotto in descrizione. L'altra promozione riguarda invece la carta prepagata Hype perché sono gli ultimi giorni per richiederla e ottenere la ricarica gratuita dai 10€ alla prima attivazione, alla prima ricarica anche solo di 1€. Anche in questo caso il link è qui sotto in descrizione. Torniamo all'argomento del video. È vero che Iliad sta continuando ad installare antenne su tutto il territorio nazionale, non è vero invece che ha attivato la sua rete proprietaria. Alcune prove effettuate sul campo infatti non hanno rilevato la presenza della rete Iliad a Roma o altrove. Si rileva invece la presenza della nuova rete unica Wind3 che è in fase di espansione su tutto il territorio nazionale. Inoltre da Iliad stessa non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale. Quindi quando sarà attivata la nuova rete? L'operatore francese in base agli obblighi imposti dal Ministero dello Sviluppo Economico che ha consentito il suo ingresso in Italia non dovrebbe avere fretta. In un documento del MISE datato novembre 2016 il Ministero specifica quali sono gli obblighi di copertura di Iliad. Nello specifico l'operatore francese dovrà lanciare commercialmente servizi di telefonia mobile su banda 1800 MHz entro gennaio 2020, coprire con la banda 2100 o 900 MHz i capoluoghi di regione entro il primo luglio 2022 e i capoluoghi di provincia entro il primo gennaio 2025. Infine dovrà coprire con la banda 2600 MHz il 20% della popolazione 24 mesi dopo che sarà messa a disposizione o fine giugno 2019, il 40% della popolazione 48 mesi dopo la messa a disposizione della stessa banda o al massimo entro fine giugno 2022. Quindi stando a questi obblighi Iliad potrebbe ancora temporeggiare per diversi mesi prima di accendere le sue antenne. Intanto può continuare a sfruttare in run sharing la nuova rete unica Wind3 che in fase di espansione su tutto il territorio nazionale dovrebbe completarsi su tutta Italia entro la fine del 2019. Quindi per ora Iliad probabilmente si sta limitando solamente ad installare le sue antenne nei capoluoghi di provincia e nelle città più importanti. La rete proprietaria del gestore sarà 3G e 4G poi negli anni successivi verrà anche implementato il 5G mentre per il 2G Iliad si appoggerà perennemente a Wind almeno fino a quando il 2G sarà disponibile. Quindi i clienti Iliad che speravano in un'imminente attivazione della rete rimarranno delusi così come sono rimasti delusi quei clienti che attendono ancora la possibilità di cambiare la propria offerta. Una promessa che Iliad fino a questo momento non ha mantenuto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere con un mi piace iscrivetevi al canale cliccate la campanellina per ricevere tutte le notifiche grazie e alla prossima. Grazie. Grazie.